oggi parliamo del programma referral che torna anche in italia e poi vi parlo di un post uscito ieri su x sull'autopilot in europa e che non è propriamente corretto a tra poco bentornati all'ampi di tesla allora intanto vi dico che la questione prezzi dei supercharger in austria la affrontiamo nella prossima puntata se no andiamo troppo lunghi ma oggi parliamo del programma referral che torna che cos'è il programma referral è quel sistema per cui il proprietario di un auto tesla tramite un link può concedere un vantaggio a qualcun altro che acquista una tesla e di conseguenza ricevere un vantaggio per se stesso il vecchio programma referral prevedeva dei punti per chi dava il proprio codice e uno sconto per chi riceveva il codice quindi chi acquistava l'auto ed è stato sospeso vi ricordo il 30 aprile bene dopo gli stati uniti e alcuni stati europei in cui il nuovo programma referral è cominciato qualche settimana fa torna anche in italia in altri paesi europei con qualche differenza allora intanto capiamo quali sono i vantaggi per chi dà il codice per chi lo riceve se acquistate un'auto col codice referral di un'altra persona avrete uno sconto di 1000 euro sull'auto nuova questo comprende tutte le auto nuove da configuratore tutte le pronte consegne ma anche le auto dimostrative quindi se voi andate sul sito e andate nella sezione pronte consegne auto nuove ci sono anche quelle che hanno già dei chilometri già scontate dimostrative anche su quelle valgono i 1000 euro di sconto il che non è niente male chi invece dà il proprio codice quindi il proprietario tesla riceve 500 euro di buono sconto diciamo così da spendere nello shop tesla al service ma anche per l'acquisto sia del software e anche di auto nuove anche in questo caso per quelle impronta consegne eccetera eccetera finalmente mi viene da dire perché anche quando c'era il vecchio programma ho sempre sostenuto che sarebbe stato molto più interessante con uno sconto in denaro sui prodotti piuttosto che con il sistema del punteggio se invece avete già un'auto tesla e ne volete acquistare un'altra quindi usando il vostro stesso referral avrete solo i 1000 euro di sconto sull'acquisto quindi vi conviene in ogni modo utilizzare il referral di un altro perché così l'altro riceve 500 euro e voi avete 1000 euro di sconto vediamo quali sono le limitazioni intanto vi lascio qui su nelle schede il link alla pagina del sito tesla con scritto tutto il limite di referral che ogni persona quindi ogni proprietario può dare è di 10 referral all'anno anno solare quindi un totale cumulabile di 5000 euro di sconti il che non mi sembra assolutamente niente male a differenza dello scorso programma referral dove raggiunto il limite comunque era possibile concedere il proprio link per la vendita di auto e ovviamente non si riceveva più alcun benefit ma chi usava il link poteva comunque ricevere lo sconto in questo caso una volta raggiunti 10 referral quindi link dato e consegna avvenuta in questo senso si intende 10 quindi completo di acquisto di ritiro dell'auto il link non è più valido cosa vuol dire che se l'undicesima persona va a cliccare sul link viene fuori scritto che non funziona non è non è più utilizzabile quindi quella persona dovrà cercare un altro referral allora per quanto riguarda l'utilizzo dei codici intanto come sempre in descrizione trovate quello mio e quello di fabrizio se siete interessati ma già ci pensavo tanto tempo fa poi hanno bloccato il programma vorrei dare visibilità un po a tutta la community datemi ancora qualche giorno per lavorarci e ci sarà una sorpresa quindi rimanete sintonizzati ora vorrei parlarvi invece di un post che è apparso ieri su x di tesla newswire che è un account che parla di news tesla a volte è attendibile a volte un po meno però questo questa notizia diciamo così che si rifà al post a sua volta di un utente qualsiasi un utilizzatore tesla quindi voi capite che loro hanno preso il post di una persona che può dire qualsiasi cosa e hanno dato questa notizia sensazionale incredibile allora attenzione io ovviamente glielo scritto più riprese però il post ancora lì vediamo che cosa c'è scritto aggiornamento 2024.32.6 esattamente quello che ho anch'io sulla mia macchina dice che siamo più vicini all fsd supervised in europa interessante direte voi vediamo un po che cosa dice dice che per chi ha il le api l'autopilot avanzato quindi il pacchetto da 3800 euro o quello completo l' fsd non c'è più il il nag è l'avviso quello che viene fuori sullo schermo se le mani sono sullo sterzo e si guarda alla strada vabbè se io normalmente tengo le mani sullo sterzo è normale che non mi dà il l'avviso quindi non capisco quale sia il problema visto dalla telecamera interna però ripeto non capisco quale sia la novità mentre l'altro dice che il cambio di corsia quindi ovviamente autopilot avanzato prevede il cambio automatico di corsia adesso inizia prima cioè nel momento in cui io metto la freccia comincia subito anziché aspettare qualche secondo e non serve più dare diciamo la conferma di inizio manovra la conferma di inizio manovra è semplicemente tenere le mani sul volante quindi se noi già abbiamo le mani sul volante non chiede niente se invece non ce l'abbiamo comunque non stiamo esercitando una certa coppia ci viene fuori l'avviso dice conferma l'inizio manovra questo non è corretto non è vero perché non è cambiato assolutamente niente quello che è cambiato e qui effettivamente anch'io l'ho riscontrato è che serve meno pressione sul volante quindi meno coppia sul volante per far sparire l'avviso questa oggi ho fatto un po di test questa è l'unica cosa che ho notato io e poi sottodice chi ha invece l'autopilot base e quindi che non ha il cambio corsia continua a essere necessario il tenere il volante ma con meno forza e questo è effettivamente l'ho riscontrato anch'io attenzione perché in altri commenti altri riferimenti quindi occhio a quello che leggete addirittura si dice che non è più necessario tenere le mani sul volante basta tenerle vicine al volante guardare la strada ecco questo non è assolutamente vero non è assolutamente vero quindi attenzione a quello che leggete questo è tutto per oggi vi ringrazio come sempre e ci alla prossima ciao